Secondo me qualcuno deve leggere il contenuto del termine diffamazione sulla base di quello che è il codice penale. Anche perché io nel mio post su Facebook non ho scritto nulla di così eclatante. Ho semplicemente scritto che Ricci si è sempre battuto e lo testimoniano tutte le sue interviste per l'abolizione del reato di abuso d'ufficio ed è tutt'oggi, oggi, lui gode dell'immunità parlamentare. Quindi qual è la diffamazione? Dopodiché tutti gli eventi che stanno travolgendo Pesaro in questi giorni sono situazioni che si sono create sotto la sua legislatura. Lui era il sindaco, non può sempre dire non lo so o non ricordo. Ha negato peraltro di conoscere alcune persone e poi prontamente sono state pubblicate le fotografie di lui in compagnia di queste persone. Quindi qualcuno dovrà dare delle spiegazioni. L'amministrazione pesarese è sempre stata molto poco trasparente, è stata una mia battaglia durante tutta quella che era la campagna elettorale. E sinceramente sono molto contenta che probabilmente sto arrivando di più ora ai cittadini che prima. Perché prima i cittadini pensavano che io lo facessi per un interesse politico, perché magari puntavo ad una poltrona, cosa assolutamente non vera per il semplice motivo che io ho un'attività lavorativa da oltre 28 anni e non intendo smettere di fare l'avvocato, il mio ho un senso di giustizia, il mio ho un senso di moralità. Io ho sempre educato i miei figli alla moralità, alla giustizia e alla trasparenza. E in questi giorni tantissimi cittadini mi stanno contattando per darmi informazioni, perché io non è che la mattina mi alzo e riesco a scoprire le cose. C'è gente che mi dà delle informazioni. Tantissimi cittadini mi chiedono di rimanere anonimi e io rispetterò il loro volere. Tantissimi ci vogliono mettere la faccia. Sto avendo informazioni sull'operato di opera maestra e ancora prima di un'altra associazione facente capo sempre agli stessi personaggi, per la quale sono notizie freschissime avute ieri. Quindi io credo che l'ex sindaco, l'ex primo cittadino, proprio perché è europarlamentare, invece che denunciare me per diffamazione, dovrebbe impiegare i suoi legali e tutte le sue energie a ricordare tutto quello che è successo in dieci anni e soprattutto mettendosi a disposizione della magistratura per fare chiarezza in questa città. Io credo che questo sia l'unico modo che può avere un primo cittadino per dimostrare non soltanto la sua totale stranità ai fatti. Attenzione, io non sto dicendo che lui è colpevole. Io sto dicendo che lui, quale primo cittadino, ahimè, è responsabile di quello che ha fatto una parte della giunta e di quello che ha fatto i dirigenti, perché i dirigenti da chi sono stati nominati? Quindi non si può dire non so. Proprio per questo lui dovrebbe aiutare la magistratura e tutti coloro che stanno cercando di fare chiarezza a fare chiarezza.